Ciao Mario, ti ringrazio, stavolta faccio quattro chiacchiere insieme a Fred De Palma. Ciao. Ciao Mario, salutiamolo. Ciao Mario, è giusto. Come va, come stai? Bene, bene, tutto bene. Come ti stai vivendo l'attesa del tuo primo festival di Sanremo? Ma allora, io anni fa ero venuto come ospite con Patti Bravo ed è stata quindi un'esperienza diciamo molto bella però molto diversa da quello che sto vivendo a livello emotivo adesso. Devo dire che sono molto focus, cioè sto facendo insomma tutto quello che devo fare per arrivare insomma preparato su quel palco, quindi... E quali sono queste cose che ti rendono più tranquillo magari? La tua preparazione come funziona per arrivare là? Tu dici che esistono cose che mi rendono tranquillo? Non lo so, magari sì. No, in realtà non penso troppo magari proprio a... Cioè penso solo a fare le cose che devo fare, tipo che ne so, imparare la canzone, cosa importante. Che comunque... Nonostante io l'abbia scritta, tu dici, no? Però sai, quel palco lì fa degli scherzi, eh, alle volte. Questa cosa non volevo saperla, però... Però è risaputa, eh, non è che te l'ho assunto la so, però è abbastanza risaputa. Adesso va, risposta, 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 si spara flash, hai presente il coso di Man in Black? Esatto, esatto. Ok. No, vabbè, questo un po' appunto studermi la canzone, un po' vivermela anche, no? Quindi in sala prove, eccetera, questo. Tu sei uno di quelli che quando arriva su un palco, come si vive il palco di solito? Ma io sono molto strano, perché se tu mi vedi un secondo prima di salire sul palco, pensi non... Cioè c'è qualche problema, proprio nel senso che sono tipo molto... Tipo chiuso, tipo così. Ah sì, in down, un po'. Oppure è proprio che sembra proprio che sto pensando ad altro, però io ho questa schilza e quando salgo sul palco divento un'altra persona. Ma anche io me ne rendo conto e mi stupisco anch'io di me quando mi succede. Però mai lo sai che funzioni così, però magari prima volta... Esatto, speriamo che funzioni sempre così, però di solito è così. Va bene, parliamo anche un po' della canzone che porti, no? Si chiama Il cielo non ci vuole. Sì. È un titolo un po' particolare. Beh sì, in realtà rappresenta molto il senso della canzone. Ok. Racconto un po'... Sì, ti va, sì. Tu sentiti libero di raccontare quello che vuoi. In realtà il brano parla prevalentemente appunto di una storia finita e appunto il riferimento del cielo non ci vuole è come per dire saremmo riusciti a stare anche all'inferno insieme anche se il cielo non ci vuole, no? È un po' quello il claim del pezzo. Ok, va bene. Chi ti porterai a Sanremo? Nel senso hai qualche feticcio, qualche amuleto, sei scaramantico? Ma anche qualche persona, eh? Io conosco artisti che si portano dietro anche una persona. Ah sì, io la mia fidanzata? Eh beh, giustamente. Sì, sì. Che la salutiamo, come si chiama? Iori, Iori. Ciao, Iori. Sì, mi porta la fortuna. Mi dà sempre gli occhi, tipo quelli che portano la fortuna. Mi darà magari un occhio così. Va bene, te lo metti in tasca. Lo metto da qualche parte. Va bene. D'accordo, io ti ringrazio per aver fatto questa chiacchiera insieme. Grazie a te. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.